Oroscopo del giorno. Mercoledì, 27 marzo, 2019. Ariete. Amore. I single potranno lanciarsi in nuove conquiste, sicuramente vi aspetta una serata molto intensa. Lavoro. Il raggiungimento dei traguardi desiderati richiede impegno. Presto arriveranno lodi, e gratificazioni. Toro. Amore. Giornata splendida, un cielo amico vi rende romantici, e passionali. Qualcuno avrà voglia di trasgredire, ma attenzione ai conti. Colpi di testa, potreste mettere a repentaglio una storia seria. Venere favorevole aiuta i single, a prendere con serenità una decisione. Lavoro. Invista cambiamenti radicali per molti toro. Possibilità di trovare nuove collaborazioni, e avere nuove entrate. Gemelli. Amore. Amore. Cercate di fare il punto della situazione, per sistemare al meglio le cose che non vanno, soprattutto nella vita privata. Evitate di distrarvi, se volete l'appoggio del partner. I single dovranno uscire, se vorranno fare nuovi incontri, venere è in ottimo aspetto. Lavoro. Giornata positiva nella sfera professionale, oggi potrete chiudere anche trattative, molto vantaggiose. Cancro. Amore. Una luna negativa influenza il vostro umore, e anche la vostra energia ne risentirà. Se qualcosa atturba il vostro rapporto di coppia, fate il primo passo, e provate a riavvicinarvi al partner. Serata ricca di incontri per i single, nuove avventure sono in agguato. Lavoro. Lavoro. Interessanti prospettive per chi ha cambiato lavoro, una nuova situazione professionale vi stimolerà. Leone. Amore. Dopo aver fatto un'analisi dei vostri sentimenti, e dopo aver ammesso i vostri errori, forse siete pronti per ricominciare un rapporto, su cui avete investito parte della vostra vita. I cuori solitari, dovranno fare attenzione a non cedere alle false adulazioni. Lavoro. La giornata è all'insegna dell'ambizione, potrete raggiungere un importante obiettivo, che perseguite da tempo. Vergine. Amore. Le stelle annunciano un cielo sereno, per le coppie che vogliono consolidare la loro unione. Però, state attenti a non vivere nell'ansia di non riuscirci. I singoli avranno una questione da sistemare con una persona del passato, e avranno anche tante occasioni per innamorarsi. Lavoro. Sarete determinati nel raggiungere i vostri obiettivi, e manca davvero un passo alla conquista del traguardo. Bilancia. Amore. Un chiarimento con la persona amata alleggerirà il vostro cuore, e riporterà equilibrio nella vita privata. Serata molto piacevole con i vostri cari. Gli astri promettono nuovi amori, per i cuori solitari che cercano l'anima gemella, non avrete che da scegliere. Lavoro. Non è il momento di fare passi azzardati, sul lavoro, e sugli investimenti, ridimensionate i vostri piani futuri. Scorpione. Amore. L'amore oggi sarà in cima ai vostri pensieri, sarete presi da una passione travulgente, che vi farà vivere una giornata spensierata. Ottima serata per le coppie. Le stelle favoriscono i singoli intraprendenti, che vorranno dimenticare il passato, e lasciarsi andare alle conquiste. Lavoro. Siete soddisfatti di ciò che porterete a termine, grazie alla luna nel segno. Abbiate fiducia in voi stessi, e in quello che fate. Sagittario. Amore. Sarà un mercoledì frizzante per molti Sagittario, sorprenderete il partner con qualche bella sorpresa. Si preannuncia un periodo roseo per la vita privata. I single non avranno tempo di annoiarsi, saranno tante le conoscenze, alcune delle quali molto intriganti. Lavoro. Buone opportunità sul lavoro, oggi sono favoriti i viaggi, e gli spostamenti, che vi faranno ampliare i vostri orizzonti. Capricorno. Amore. Nuovi progetti per la vita privata, le coppie stabili potranno pensare al matrimonio. O iniziare una convivenza. La vita amorosa è vibrante e passionale, e cancella ogni incertezza. I single faranno conoscenze interessanti, con le quali entreranno in sintonia. Lavoro. In campo professionale, la capacità di intuire quali sono le opportunità migliori, vi darà una marcia in più rispetto a colleghi. Acquario. Amore. È un ottimo momento, per vivere intensamente una storia damore appena iniziata. Chi ha ancora qualche strascico alle spalle, potrà sperare in un futuro più fortunato. Nuove amicizie in arrivo per i cuori solitari, Marte vi appoggia con la sua benevolenza. Lavoro. Puntate su forza di volontà, e costanza, per superare ogni difficoltà. Troverete un punto d'incontro anche con capi, o colleghi. Pesci. Amore. Per molti del segno comincia un periodo molto intenso, sia per chi è in coppia da poco, che per le coppie di vecchia data. I single dovranno farsi avanti, prima che sia troppo tardi. La paura di essere rifiutati, a volte non vi abbandona. Lavoro. Oggi sarà meglio non farsi troppe illusioni sulle opportunità professionali, potrebbero scarseggiare. La paura di essere rifiutati, a volte non vi abbandona. La paura di essere rifiutati, a volte non vi abbandona.